Buonasera cari amici di Fano TV, ben trovati e ben ritrovati per un'altra puntata di Dopocena sui divani rossi come sempre nel martedì sera. Questa sera parleremo di una forma d'arte, anzi di due forme artistiche che si sono fuse e che presto saranno presenti in un'unica sede a Fano, quindi potete spaziare e dilettarvi in quello che più vi è congeniale. Stiamo parlando del ballo, della recitazione anche e di corsi che si fondono insieme perché un nuovo soggetto da questo punto di vista presto si affaccia sulla scena fanese. E allora li abbiamo qui ospiti nei nostri divani, eccoli qua, in tutto il loro splendore, alcuni più conosciuti, altri meno conosciuti e allora cominciamo dalla destra, dall'inizio. Occhio a dire destra finissimo. No, del divano. Adesso del divano. Edoardo Dado Frustacci, insomma componente, fondatore di Oltre il Sipario, da tempo impegnato sul fronte della recitazione, del divertimento. Sul fronte. Tu sei sul fronte, poi dopo che cosa si faccia. Accanto a lui Masha Valentini, insegnante di danza classica. Prima Masha mi ha dilettato con un plié per testimoniare che veramente sapeva di che cosa. L'ho fatto anch'io il plié. Tu hai fatto un plié, sei rimasto plié. L'andamento di questa puntata è questo, insomma, ce ne andremo un po' così a rotoloni, ma il divertimento quando possiamo è imperante nei nostri divani per passare un'oretta, una mezz'oretta in allegria. Accanto a lei Milena Gianmattei, insegnante di danza anch'essa, dalla postura si vede, inconfondibile, però di danza moderna. Dopo farai un passo di hip hop a testa, farete... no, scherzo. Allora, Dado, partiamo da te. Insomma, voi avete pensato di unire le vostre forze e di dare vita all'Accademia dello Spettacolo. Partiamo da questo. Allora, perché? Perché? L'Accademia dello Spettacolo. Fondamentalmente facevamo sempre già un po' tutto, danza, teatro, canto, però con piccoli assaggi e abbiamo pensato invece di fare una cosa ben impostata, quindi con dei professionisti in tutto e per tutto. Siamo noi fondamentalmente i promotori e i fondatori, ma avremo dei professionisti che si avvicineranno e daranno lezione, come per esempio nella magia. Verranno due o più maghi dal club magico di Pesaro, quindi della regione, della regione Marche. Abbiamo ballerini professionisti, insomma poi di questo parleranno loro. L'arte della recitazione è fondamentalmente tutto, stare sul palco, l'arte scenica comprende tutto. La comunicazione, in primis, il nostro corpo. E quindi perché non formarlo in tutto e per tutto? Certo. E poi ognuno sceglierà quello che più gli piace, quello che più si sente portato. Quale sarà la forma espressiva che più gli è congeniale, la propria fisicità, il proprio talento naturale? Perché comunque ognuno di noi ha un talento naturale che deve alimentare. Magari qualcuno non lo sa, frequentare una scuola di questo tipo può mettere in risalto e alla luce qualcosa che magari neanche voi pensavate di avere. Ma io così ho fatto, mi danno sempre dello scemo. E quindi hai pensato bene di mettere in pratica. Ho trovato qualcuno più scemo di me perché mi pagano. Vabbè, per cui sono. Però devo dire che fino adesso ti è riuscito bene a farti pagare. No, va bene. Con Dado ci permettiamo di scherzare perché lo conosciamo da tanto tempo. Tante volte qui sulla piazza hai dato dimostrazione, anche con i tuoi ragazzi, di avere un filo conduttore, di avere una metodica di insegnamento anche che non razzola nel facile, perché insomma quando si va sul facile spesso si scade nella mediocrità, ma di cercare invece una strada forse un po' più in salita ma che comunque dà una base più solida. Grandi soddisfazioni, specialmente con i bambini. Noi ripartiamo dai cinque anni e poi ti fanno impazzire quando fai i laboratori perché sono uno spettacolo solo loro, così, senza fare nulla. Poi quando salgono sul palco ci prende l'emozione a noi dal backstage. Io mi emoziono sempre. Dopo tanti anni ogni volta che vedo i bimbi, l'altro giorno ho presentato a loro uno dei nostri ragazzi che ci segue, ci sta dando una mano anche fisicamente e ha iniziato che aveva sei anni. Poi c'è una foto in cui lo sto truccando, che aveva sei anni, adesso ne ha tredici, altro ne ha ottantacinque. Stai così, stai. No, ce ne sono diversi che hanno fatto dai sei anni fino ad adesso ed è una soddisfazione vederli crescere, non solo nell'arte scenica ma anche nella vita. Bene, allora facciamo anche conoscere le altre ospiti e componenti di questa Accademia dello Spettacolo. Allora, Masha, fai una piccola presentazione perché qualcuno che gravita all'interno del mondo della danza classica ti conosce, sa da dove vieni, cosa fai, la tua esperienza, la tua professionalità. Diamo per scontato che qualcuno magari non ti conosce e quindi siccome sarai con lei che... Sì, organizzo tutta la parte classica, giustamente. Dici chi sei. Chi sono. Da dove vieni? Da dove vieni. Un fiorino. Eh, va bene, va bene. Danno anch'io. Aggancio. Aggancio, va bene. Niente, io ho studiato come tante altre ragazze qui a Fano, poi più avanti insomma ho iniziato a fare un percorso professionale grazie a un maestro russo che mi ha preso nella compagnia e quindi ho incominciato a girare diciamo molte città italiane e niente. Hai fatto un percorso insomma come molti, poi colleghi. Esattamente, poi vari stage, vari corsi, insomma esami e tanta esperienza. Esattamente, molto di palcoscenico. Molto di palcoscenico, insomma che forse quello è il ruolo. È fondamentale, è fondamentale. La televisione va bene ma insomma anche il teatro in televisione va bene. Il teatro penso che sia quello che dà soddisfazioni maggiore. Allora, accanto a Masha c'è un'altra insegnante però sul fronte insomma moderno, Milena. Allora Milena, insomma forse la meno conosciuta diciamo. La meno conosciuta del trio perché non sono di qua, sono nata a Roma. Le mie origini sono di qua perché mio padre e mia madre sono tutti e due qui di Fano. Però ecco, io sono nata a Roma, ho studiato a Roma, poi per un periodo ho lavorato in Sicilia, in giro per l'Italia, per le varie strutture turistiche e poi da quando mi sono trasferita qua sono stata un po' più su Pesaro che su Fano. Collaboravo con Edoardo però ecco, più verso la zona Pesaro. Invece adesso? Adesso Fano. Ecco, invece Fano quindi siete ritornati al luogo di origine. Va bene. Allora Edoardo, quindi insomma c'è un progetto alla base che affronta tutti gli aspetti di qualsiasi modo di espressività artistica il corpo consenta di fare? Sì. I progetti sono tanti, devo essere sincero. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare un servizio sicuramente ottimo, avvalendoci appunto anche di professionisti. Appunto sabato 3 faremo l'inaugurazione, verranno alle 18 mi sembra i maghi a fare una dimostrazione dei loro laboratori. Poi avremo anche, insegnante di canto, la Cate Natalini, che è stata direttrice del Polifonico, del Coro Polifonico del Rossini, con la quale abbiamo fatto anche uno spettacolo dove siamo intervenuti sia io come attore e Milena come ballerina con l'Alma Argentina. È uno spettacolo molto bello con un coro numerosissimo, musicisti dal vivo, un'esperienza molto interessante. E in più lei si occuperà anche dell'educazione vocale, di solito cerca di educare me, ma io dopo le serate che sto facendo non parlo più, anche la barba è scenica oggi, per cui non l'ho potuta tagliare, chiedo scusa al pubblico per questa peluria. Questa esigenza, questa licenza artistica, scenica, che ogni tanto gli artisti si prendono, in realtà sono delle bugie fantastiche, possono farlo. Diciamolo, diciamolo. Va bene, fantastico. Allora, segnatevi questa data, questo appuntamento. Che è il primo, perché abbiamo sia il 3, in Open Day, dal pomeriggio, dalle 16. Dalle 16. E poi proseguirà nell'arco della giornata tutta la domenica, con vari appuntamenti, anche su prenotazione, chi vuole prenotarsi per provare a fare delle lezioni con noi. Un primo approccio, un primo approccio. Dove siete? In via della Liscia 9. In via della Liscia 9, vicino proprio alla centrale. Come si chiama? Quella che quando uno scende, sulla destra c'è il canale. Esatto. Sono lì, quindi siamo in zona centrale, in zona facilmente individuabile e raggiungibile. Però, se sono lontani, non per lo stage, ma per l'inaugurazione, ma per i laboratori invernali abbiamo la possibilità, attraverso un pulmino, di andare a prendere i bimbi. Ah, ecco, quindi c'è anche questa possibilità di pulminaggio. Certo, se uno sta a possombrone, no. Però, veniamo a vi organizzare, insomma. Come di scuola bus, il danza bus. Allora, Masha, parliamo dei tuoi corsi, di come è strutturato il tuo progetto verso la danza classica. Allora, ci tengo a dire che il 3 verrà Larisa Tugliakova dell'Accademia Russa, quindi ci tengo molto a dirlo. Sarà come ospite, quindi farà due lezioni, un intermedio avanzato e un altro appunto dedicato agli under 12. E niente, i miei corsi sono sia ammatoriali e corsi professionali. Quindi, le ragazze potranno dare anche degli esami del Russian Ballet Society. Io sono diventata membro quest'anno, grazie anche a Desiree Motta, che è vicepresidente. Ci darà la possibilità appunto di fare questi esami, quindi di legarci al metodo russo. E le ragazze faranno questi corsi suddivisi in dieci anni, dai preparatori fino agli avanzati. Poi potranno dare anche esami da soliste e ballerine. Quindi sono decisamente importanti, esatto. Poi sono riconosciuti dal CID e dal CDET. Quindi sono esami molto validi. Sono entrati in Italia dal 2012. Sono sia al nord che al sud. Ci sono molti centri accreditati, molte scuole. Che possono aprire un po' le porte anche del professionista. Le porte del metodo russo. Vaganova che esami qui, a parte la Scala e l'Accademia di Roma, ma esatto, quelli sono fondamentali come esami, come formazione, come tutto. E noi cercheremo comunque di avviarci su questo. Ci proviamo. Certo. Ci proviamo. Poi naturalmente ci saranno degli stage. Ci saranno degli stage, esattamente. Abbiamo sempre Larisa Tugliacova che ci accompagnerà in questo percorso. Poi ci saranno anche stage di formazione per quanto riguarda il moderno, ma lascio la parola alla mia collega. Grazie. Possibilità per tutti però di approcciarsi a questa forma artistica. Esatto. Dai tre anni partono con la danza educativa, appunto, danza creativa. I corsi professionali iniziano all'età di 9-10 anni questo percorso. Quelli professionali studiano tutti i giorni, ingiustamente. Quelli amatoriali studiano quelle due o tre volte alla settimana. Vabbè dopo, su orari e giorni vi metterete. Esatto, esatto. Invece sul fronte moderno? Sul fronte moderno. Guardi, quali muove. Allora, come ha detto la Mascia, partiremo anche nel moderno con i bambini dai 3-4 anni, anche due e mezzo adesso, bisogna vedere un po' come reagisce anche il bambino. Partiamo con questa danza creativa che, diciamo, è un approccio alla danza, quindi al movimento, alla scoperta del corpo, attraverso l'utilizzo della musica, di giochi, di piccole attrezzature come possono essere cerchi, palloni, toccando tutti i vari aspetti della danza. immaginazione, visto che i bambini ci sono pieni di questa risorsa. E in più poi andremo avanti con i corsi per tutte le varie fasce di età. Fasce di età limitate perché abbiamo intenzione di fare anche corsi per adulti, quindi chi volesse di cominciare anche in età più avanzata è ben accetto. Dopo, anche noi nel settore moderno, faremo venire dei maestri professionisti da fuori che faranno degli stagio e in occasione della nostra apertura, il 4 alle ore 10, abbiamo uno stagio con Cle di Cadio, direttamente dalla televisione, dalla trasmissione di Maria De Filippi, stagio su prenotazione, e quindi invitiamo a passare il via dell'Alicia 9 per prenotarsi, chiunque sia interessato, e così apriremo questa nuova avventura. E poi ci sono i Pilates. Ah, i Pilates, certo, ci saranno tutti i vari sottocorsi, l'Hipop, il breakdance, la danza contemporanea. Dopo questi corsi di Pilates... Mi interessa no, perché a Pilates non si fa niente. Pilates e ginnastica dolce, non è vero che non si fa niente, perché può sembrare... Posso vedere una lezione? No, devi provare, perché a vista può sembrare che non si fa niente, invece vi assicuro che si fa molto, è una ginnastica molto mirata per tutte le età, perché gli esercizi sono molto personalizzati e gestibili personalmente, viene fatta anche da chi ha avuto traumi, oppure soffre di mal di schiena, perché gli esercizi comunque sono anche lenti, basati sulla concentrazione, e quindi sono adatti a tutti. Poi, anche per chi non ama saltellare o suonare, diciamo che va bene, però lavora tutto il corpo, lavorano tutti i muscoli in profondità, e fa bene al corpo. Allora io ho voluto... E alla salute. All'anima e alla salute. All'anima e alla salute. All'anima e alla salute. Ho voluto, insomma, forzare volutamente questa cosa, perché sapevo, insomma, che in realtà non era così. Dato, alle volte, questi piccoli espedienti, proprio bienti e va bene, per tirar fuori qualche concetto. Qualcosa in più. Lavorate anche sul fronte degli eventi, cioè che anche questo può essere uno scenario nuovo che si può aprire. Ultimamente stiamo lavorando, stiamo coinvolgendo i nostri ragazzi in diversi eventi, in diverse situazioni. A parte abbiamo aperto anche dei centri estivi specifici proprio con un indirizzo artistico. Quindi partiamo dal gioco della danza, al teatro, alla magia, al canto. Quindi anche i nostri ragazzi, scusate, che partecipano ai nostri centri estivi, poi hanno avuto la possibilità di esibirsi. Come sede logistica, lo sport park di Fano. Ce l'abbiamo tuttora, perché continuiamo anche adesso i nostri centri. E la sera facciamo gli eventi. E come il 28, che stiamo creando questo evento divertente, io l'ho fatto tanti anni nei villaggi turistici, mi è rimasto sempre nel cuore, è la festa della Leccornia, o Leccornia, che dir si voglia. Dove stiamo creando con i ragazzini proprio degli stand, dove giocheranno i grandi, con il lancio del ferro di cavallo, il tiro dei barattoli, insomma cose un po' passate, che i bimbi non conoscono, ma conoscono in questo momento come autori. Sono loro che pitturano i barattoli, e quindi abbiamo creato questa cosa. In più ci saranno anche degli ospiti particolari, che verranno, sono dei collezionisti di giochi, giocattoli antichi, e li porteranno in mostra a questa festa delle Cornie, proprio allo sport park il 28 per la sera. Poi anche altre cose, cortometraggi, coinvolgiamo i ragazzi, quindi noi partiamo, facciamo un po' di tutto, dall'arte del teatro, che è praticamente iniziare i ragazzi alla comunicazione, che i bimbi nascono con i canali comunicativi aperti, tutti e tre i canali, loro li vedono, li usano. Poi man mano che crescono, tendiamo a perderle, fin quando ce ne rimane uno. Diciamo che da noi cerchiamo di risvegliarli, risvegliarli, perché secondo il mio punto di vista, il pubblico è diviso in tre categorie, ognuno ascolta con un canale diverso, e quindi abbiamo bisogno di comunicare attraverso tutti i canali, ma questo non fa bene soltanto all'arte scenica della recitazione, che poi io sottolineo, cerco di fare l'arte della non recitazione, cioè l'essere veri, ma soprattutto nella vita. Io vedo i ragazzi miei, quelli che sono cresciuti con me, che anche nell'approccio, nei gruppi, sanno cosa significa un gruppo, come condividere, e come esprimersi, come muoversi, quindi è una cosa che va al di là del palco, quindi oltre il sipario. Questa l'avevo preparato, questa è la che scrivi, infatti vedi, non ti ho interrotto, perché ho detto prima o poi arriverà la chiusa, ed ecco, insomma con tempismo scenico, insomma da attore consumante, consumato, consumato proprio la voce, proprio se ne sta andando, la voce di Dado. Allora però, la danza classica, allora adesso mi rivolgo a Masha, ha sempre questo appeal, questo fascino nelle bambine, piace sempre. Il fascino è il tutù, il famoso tutù, e quando si inizia a intraprendere i corsi, arrivano all'età di otto anni, che vogliono queste scarpette da punta, che sono per loro, ecco, ballare sulle punte, è un punto d'arrivo, è un punto d'arrivo, è un punto d'arrivo. E quindi insomma, comunque, la danza classica ha sempre, il suo, insomma, settore d'appeal, molto, molto determinato. Invece sul fronte moderno, quali sono un po' le ultime, perché anche, forse siete un po' più soggetti, assoggettati alle mode, forse, non lo so. Sì, no, diciamo che, i corsi che facciamo di moderno, hanno sempre come base, perché tanto si parte da lì, quindi, la base è quella. Diciamo che, è fatta in maniera un po' più stravagante, non lo so, diciamola così, con la musica più moderna, ecco, magari non mettiamo il tutù, mettiamo un paio di leggings, una maglietta, però, comunque, alle bambine piace lo stesso, anche quello. Dopo, sì, ci sono queste ultime tendenze, che, diciamo, oltre alla danza moderna, jazz, abbiamo l'hip hop, la break dance, soprattutto per i maschietti, che magari, no, danza no, però, break dance, si buttano, si buttano un po' di più, e, e la danza contemporanea, che, comunque, eh, abbiamo anche un ragazzo, che si chiama Bernard, che verrà a fare lezioni, che è un grande professionista, e, vediamo, per le ragazze più grandi, di abbinare a questo percorso, danza moderna, danza classica, esattamente, e poi abbiamo anche la danza, avranno uno studio più completo, più, più compatto, anche la danza ritmica, abbineremo a tutto il percorso, sì, in questo percorso, perché è fondamentale, la ginnastica, nella danza, adesso ci siamo talmente evoluti, che, infatti, anche la ritmica, fanno lezioni di danza classica, e viceversa, in tutte le discipline, adesso abbiamo le olimpiadi, fanno danza classica, però anche nella danza classica, serve molto la ginnastica, ritmica, senza attrezzi, ma proprio ginnastica, a livello di scioltezza muscolare. E' bello, questi travasi di discipline, di generi, queste miscellane, dove tutto interagisce, e interattivo, è molto bello. A fine di tutto questo, a fine corso, rilasceremo, appunto, anche degli attestati, dei diplomi, che sono importanti, perché comunque, fanno questo percorso, durante l'anno, giusto? E' perfetto. Certo, e poi ci sono le borse di studio, le borse di studio, che sono a disposizione, e poi, insomma, per chi se le meriterà. Sì, diciamo che più che se le meriterà, noi quest'anno, sperimenteremo, a sorteggio, come funziona, gli avventori all'inaugurazione, sia del sabato che la domenica, avranno un bollino, alla fine della domenica, quindi alla fine della serata, della domenica, verso le 20, faremo questa estrazione, e regaleremo, due borse di studio, una nell'arte della danza, e una per l'arte della recitazione. ovviamente, questo è il primo anno, che noi lo proponiamo, e quindi faremo a sorteggio, ma non è detto, che le cose si possano evolvere. Ecco, non lasciamo limiti al caso. diciamo che ci sono stati già, degli eventi, con, oltre al sipario, con l'associazione, con cui, fino adesso, siamo andati avanti, quali abbiamo anche date, beneficenza, per chi magari, si è trovato in difficoltà, per alcuni periodi, visto che non è un periodo, proprio facile, e quindi, per non far patire ai bimbi, a volte, lo abbiamo fatto, proprio come associazione, senza nessun problema. Bene, meritorio sicuramente, e quindi, cerchiatevi, se avete queste propensioni, queste passioni, sul calendario, due date, il 3 e il 4. il 4 di settembre, presso, insomma, il nuovo centro, no? L'Accademia dello Spettacolo, in via della Liscia, in via della Liscia, 9, 9, e andate lì, dalle 16 di sabato pomeriggio, a disposizione, questi fantastici ragazzi, che sono qui, sui divani, per, così, approcciare, per prendere un contatto, e capire. Devo dirti che, siccome siamo in piena vista, perché la gente passa, e ci vede vestiti, molto elegantemente, tutti verniciati, siete, molto artistici, onnideri, avete le vetrate aperte, abbiamo le vetrate aperte, ma lavoriamo fuori, visto il caldo che fa, ogni tanto, arriva qualcuno e fa, possiamo chiedere anche a voi, anche a voi, come dire? Ha detto, in questa veste da operaio, stiamo facendo di tutto, stiamo creando questa nostra accademia, con il cuore e con le mani, veramente, se passate, disturbateci, venite, cercateci, perché noi siamo lì, e con grande orgoglio, vi facciamo vedere, quello che stiamo facendo, dai piccoli passi, dalle piccole rifiniture, pittoriche, possiamo dire, alle grandi stiamo creando anche il palco, quindi, le sale da danza, stiamo creando, per voi, vi aspettiamo. Bene, allora, quindi, con questo esplicito invito, di Dado, a, insomma, rompere le scatole, tra virgolette, io saluto, gentili ospiti, Milena Giammattei, che sarà con lei, che curerà il settore di danza moderna, al centro Mascia Valentini, una postura, vedete, loro sono posturali, Dado, tu invece, io e te, e la giornata, invece, loro vedi come sono, insomma, eh, Mascia Valentini, che insomma, curerà il settore classico, e poi, la danza ortopedica, e Dado, Dado, da best of fruit, frustaci, in tutto il suo splendore, vi introdurrà, alle arti, insomma, delle sceniche, alle arti sceniche. Dario Barrestre è tutto, grazie per essere stati con noi, per questa bella puntata, così artistica, danzeccia, di Dopocena. Alle prossime, ciao, ciao a tutti, Buonasera,